Le videochiamate sono ormai parte del nostro quotidiano, sia nel lavoro che nella vita personale. Tuttavia non è sempre semplice apparire e farsi ascoltare al meglio. Grazie agli effetti studio di Windows potrete, come per magia, dire addio ai fastidiosi rumori di fondo, nascondere il disordine nella vostra stanza, leggere tra gli appunti senza farvi notare e molto, molto altro ancora. Non ci credete? Invece è tutto vero. Ciao esperti, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e siete su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale dedicato a scoprire tutto sui prodotti e sui servizi Microsoft. Gli effetti studio di Windows sono un insieme di filtri ed effetti potenziati dall'intelligenza artificiale integrati in Windows 11, che vi permettono di migliorare e perfezionare l'audio e il video della vostra fotocamera, indipendentemente dall'app che utilizzate per videochiamare. Nel Copilot Plus PC, i PC Windows più veloci e intelligenti di sempre però, grazie all'incredibile potenza di calcolo AI offerta dalla MPU integrata, gli effetti studio di Windows si potenziano, per permettervi di fare ancora di più tramite una serie di nuove funzionalità esclusive per questa classe di PC. Se desiderate scoprire cosa rende così potenti e intelligenti Copilot Plus PC e tutte le funzionalità incredibili a cui possono accedere, vi consiglio assolutamente di recuperare il nostro video dedicato dal link qui in alto. Ma prima di scoprire insieme come utilizzare al meglio gli effetti studio di Windows, se amate restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità relativa ai prodotti e ai servizi Microsoft, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e seguirci anche sugli altri nostri canali social, come Instagram, Facebook, TikTok e Twitch. Bene allora, iniziamo! Testeremo gli effetti studio di Windows sul favoloso Surface Pro, un Copilot Plus PC versatile e potente, dotato di una fotocamera anteriore ad ampio campo visivo e doppi microfoni Surface Studio. Per scoprire tutto su Surface Pro recuperate il nostro video dedicato dal link qui in alto. Attivare gli effetti studio di Windows è estremamente semplice e potrete farlo direttamente dalle impostazioni rapide di Windows o dall'app fotocamera integrata. Gli effetti studio di Windows sono potenziati dalla MPU integrata e funzionano in locale, quindi il loro uso non andrà a influire sulle prestazioni del vostro Copilot Plus PC. Bene allora, vediamoli uno per uno. Vi è mai capitato di videochiamare in un luogo particolarmente buio? L'effetto illuminazione volto vi permetterà di illuminare la vostra silhouette istantaneamente, indipendentemente dalle condizioni di luce, facendovi risaltare anche se la luminosità circostante non è delle migliori. Vi trovate in un luogo particolarmente disordinato o in un ambiente pubblico? Gli effetti di sfondo vi permetteranno di scegliere tra due diversi tipi di sfocatura. Ritratto più leggera e naturale e standard più intensa. Adatta per oscurare eventuali oggetti che avete sullo sfondo e mantenere la vostra privacy. Il ritaglio sarà davvero naturale e grazie agli oltre 40 trilioni di calcoli AI effettuati al secondo dalla MPU a bordo dei Copilot Plus PC, i vostri capelli e gli eventuali oggetti che indossate, come le cuffie, non saranno tagliati nello sfondo. Volete dare un tocco divertente al vostro aspetto? I filtri creativi vi permetteranno di scegliere tra tre diversi effetti speciali, che vi faranno apparire come in un'illustrazione, come in un cartone animato o come in un dipinto d'acquerelli. Questi filtri sono sbalorditivi e l'effetto viene applicato in tempo reale senza appesantire i processi del vostro PC o le prestazioni della videochiamata. Durante le videochiamate guardiamo il nostro interlocutore sullo schermo, il che ovviamente non ci permette di apparire in modo naturale come se lo stessimo guardando direttamente negli occhi. Con l'effetto contatto visivo standard i vostri occhi verranno ridisegnati e riposizionati digitalmente verso la camera e il vostro sguardo apparirà più naturale e professionale, anche se state guardando da un'altra parte. Se invece volete registrarvi mentre leggete un testo o desiderate sbirciare tra gli appunti, l'effetto contatto visivo teleprompter vi permetterà di mantenere il contatto visivo anche durante la lettura. Assolutamente fantastico! Avete posizionato il PC sulla scrivania e intendete seguire la chiamata mentre vi muovete per la stanza? Attivate inquadratura automatica. In questo modo la fotocamera del vostro dispositivo diventerà un vero e proprio regista, seguendovi mentre vi spostate. Assolutamente incredibile! L'ultimo effetto studio di Windows è progettato per migliorare l'audio delle vostre videochiamate e potrete accedervi cliccando sull'iconcina a forma di microfono. Attivando l'effetto ottimizzazione della voce andrete a rimuovere in tempo reale i fastidiosi rumori di fondo anche più intensi che potrebbero essere presenti in luoghi affollati e rumorosi come bar o uffici. L'intelligenza artificiale diventa estremamente utile quando si integra nelle nostre attività quotidiane come le videochiamate. E gli effetti studio di Windows si rivelano un set di funzionalità estremamente utili, permessi dall'incredibile potenza dei Copilot Plus PC. E voi cosa ne pensate degli effetti studio di Windows? Fateci sapere la vostra nei commenti in basso. E non dimenticatevi di seguirci su Instagram e Facebook per restare al passo con le novità Microsoft ogni giorno su TikTok per i nostri contenuti brevi e divertenti e su Twitch per le nostre dirette interattive. A presto esperti, ciao! Oggi diamo il benvenuto alla settima edizione dell'elegante Surface Laptop. Questo dispositivo rispetto ai precedenti Surface Laptop non è solo più veloce ma è anche più intelligente. Bene, scopriamolo insieme!